Allora, bene, riprendiamo sempre con i limiti notevoli. Limite per x che tende a 0 di tangente di 3x fratto seno di x. Benissimo. Allora, come, ben so, esiste questo limite notevole che è limite per x che tende a 0 di tangente di x fratto x che è uguale a 1, ok? Quindi questo qua è uguale a 1. Allora, osservate un attimo cosa faccio, ragazzi. Vedete, in questo caso, vado a scrivere il limite per x che tende a 0. Divido e moltiplico solo il numeratore per la stessa quantità, così nulla cambia. Quindi se ho 3x qua, devo avere 3x qua sotto. Ma se divido per 3x, moltiplico per 3x. La stessa cosa faccio col seno di x. So che il limite di seno di x fratto x per x che tende a 0 è uguale a 1. Quindi divido seno di x per x e contestualmente lo moltiplico per x, così nulla cambia anche al denominatore. Fatto questo, vedete, allora tutto questo limite, già lo conosco perché la regola mi dice che è uguale a 1, ok? Anche questo lo conosco, è uguale a 1. Quindi avrò il limite per x che tende a 0 di 3x fratto x, ma x e x si semplificano e quindi mi rimane 3. Quindi questo limite ovviamente risponde alla forma 0 su 0. Andiamo a vedere quest'altro limite. Allora abbiamo il limite per x che tende a più infinito di 1 fratto la differenza di queste due radici. Se io vado a sostituire l'infinito avrò infinito meno infinito, che è una forma indeterminata. Anche infinito meno infinito indeterminata. Quindi in questi casi cosa si fa, ragazzi? Beh, molto banalmente, quando si ha la differenza o la somma di due radici, l'unica cosa da fare, dato che non posso scomporre, non posso raccogliere le x di grado massimo, quello che sia, è quella di razionalizzare. Quindi cosa si fa nella razionalizzazione? Si riscrive tutta la frazione, vedete, l'ho scritto in nero, e poi si moltiplica denominatore e nominatore per il coniugato di questa quantità. Cioè, la riscrivo tale e quale, vedete, x più 1, radice di x più 1, però questa volta più radice di x più 7. E sopra riporto la stessa quantità al numeratore, moltiplicata per 1, che ovviamente si omette, in quanto 1 è numero neutro per moltiplicazione e divisione. Ok, quindi vado a scrivere limite per x che tende a più infinito, qua sopra mi rimane questa quantità, sotto è come se facessi, ripeto, a meno b per a più b. Quindi, se faccio questo prodotto, questo è un prodotto notevole che mi origina differenze di quadrati. Quindi faccio radice di x più 1 per radice di x più 1, che è uguale a x più 1, meno per più fa meno, e poi radice di x più 7 fa, per radice di x più 7 fa x più 7, ma il segno meno mi cambierà i segni qua dentro, quindi meno x meno 7. Alla fine, x e meno x si semplificano, 1 meno 7 fa meno 6. Quindi avrò il limite, mi è rimasto il limite per x che tende a più infinito, di questa quantità al numeratore, vedete, a questo punto ho infinito più infinito, che non è una forma determinata. Ripeto, la forma determinata è solo infinito meno infinito. Quindi, avrò infinito fratto meno 6, una volta che vado a sostituire, vedete, sostituisco, non metto più il limite, o l'operatore matematico limite, è chiaro? Vado a sostituire e quindi lo elido. Infinito fratto meno 6 è uguale a meno infinito, e questo è il risultato. Vediamo pure questa. Vedete qua, in questo caso ho x che tende a meno infinito, se la vado a sostituire avrò meno infinito, meno infinito al quadrato che fa il più infinito, quindi meno infinito più infinito è una forma determinata. In questo caso si fa uguale come prima. Io qualsiasi cosa la posso sempre considerare fratto 1. Ok? Vedete, ve l'ho messo in azzurro. Allora, andrò a scrivere il limite per x che tende a meno infinito. Vedete, riscrivo la stessa quantità e la moltiplico per il coniugato. In questo caso sto razionalizzando il numeratore. Quindi moltiplico il numeratore e il denominatore per il coniugato di questo, quindi cambiando il segno meno in mezzo, vedete. Alla fine, anche in questo caso avrò x per x fa x quadro, più per meno fa meno. Ovviamente il segno meno mi cambierà i segni qua dentro. Quindi x quadro più 2 per x quadro più 2 sotto radice è semplicemente uguale a x quadro più 2, ma il segno meno sarà meno x quadro meno 2. Tutto fratto x meno... Allora qua sotto, andando all'infinito, mi vince, diciamo, la x di grado massimo, cioè l'infinito di ordine superiore, che è x quadro. Quindi avrò la radice di x quadro. Come ho detto in qualche altro video, la radice, ricordatevelo, di x quadro è semplicemente uguale al valore assoluto di x. Ma andando... Vedete, ve l'ho scritto qua. x meno valore assoluto di x. Però andando a meno infinito, dal valore assoluto io estrapolo meno x. È chiaro? Quindi avrò, alla fine, al numeratore, meno 2 e sotto avrò x meno meno x. Perché andando a meno infinito, ripeto, vado a prendere le x negative. Ma meno per meno fa più, quindi avrò il limite per x che rende a meno infinito di meno 2 fratto 2x. Ovviamente, qua si potrebbe anche semplificare senza problemi, ma tanto vado a sostituire meno infinito alla x, avrò meno 2 fratto meno infinito e che è uguale a 0. Comunque sia al di là dei segni, perché un numero fratto infinito, ricordatevi che un numero fratto infinito è sempre uguale a 0. Va bene? Ok, facciamo quest'altro limite. Allora, qua abbiamo il limite per x che tende a meno 2 più di questo numeratore fratto questo denominatore. Allora, qua bisognerebbe scomporre, o comunque, in qualche modo, siccome questa è una forma 0 su 0, quindi qua non stiamo parlando di limiti notevoli in realtà, come anche prima, infinito o meno infinito, non è un limite notevole, sono solo delle forme indeterminate. Beh, come si scompone questa? Beh, qua per eliminare il fattore di indeterminazione bisogna scomporre ed eliminare qualche cosa. Allora, se ben notate, x quadro più 4x più 4, altro non è che x più 2 al quadrato. Perché? Guardate, prendete, quando avete un trinomio, prendete il primo e l'ultimo termine, però attenzione che molte volte lo mettono in modo un po' ingarbugliato, comunque prendete due quantità e vedete se sono dei quadrati perfetti. Infatti, 2, no? 4 è il quadrato perfetto di 2 e x quadro è il quadrato perfetto di x. Poi, non ci vuole nulla a immaginare un quadrato di binomio. La stessa cosa faccio qua sotto. Questo invece, vedete, avete 1, 2, 3 e 4. Quattro quantità. Quindi, i segni sono tutti positivi, questo è il cubo di un binomio, ovviamente, perché x elevato al cubo è x al cubo. 8, 2 elevato al cubo mi dà 8, quindi, posso provare a fare dei conticini e quindi, sicuramente, questo sarà x più 2 al cubo, ma d'altronde fatevi furbi. Se qua sopra ho ottenuto un x più 2 al quadrato, sicuramente, questo sarà la stessa cosa ma elevato al cubo, perché tanto, questi esercizi sono fatti apposta in modo da eliminare qualche cosa. È chiaro? Quindi, x più 2 al quadrato si semplifica col cubo, qua sotto, quindi mi rimane il limite per x che tende a meno 2 più di 1 fratto x più 2. Allora, attenzione adesso che abbiamo meno 2 più. In realtà, io qua avrei 1 fratto 0, perché meno 2 più 2 fa 0. Beh, come si fa? Fatevi sempre due lineette, ok, due assi reali, su una vi mettete meno 2 e sull'altra ci mettete 0, perché so che meno 2 più 2 fa 0. Siccome mi avvicino a meno 2 da destra, ok, supponiamo di fermarmi un po' prima di meno 2 dato che mi avvicino da destra. Quindi, supponiamo che questo sia un valore meno 1,8. Se io vado a sostituire a questa x adesso, o a questa x, meno 1,8, meno 1,8 più 2 fa più 0,2 che sta a destra di 0. Quindi, io eventualmente mi avvicinerei allo 0 da destra, quindi sarebbe 0 più e in effetti è 0 più. Allora, un numero positivo fratto 0 più mi dà appunto più infinito.